Credo che da parte dei leader ci sia stato un grande impegno, sono venuti spesso, anzi posso dire che il centro-destra ha avuto una partecipazione da un punto di vista di leader nazionale molto maggiore rispetto al centro-sinistra. Credo forse che i partiti locali siano stati un po' pigri e forse non ci abbiano creduto fino in fondo e mi aspettavo certamente dei numeri e dei risultati migliori. Ci siamo sentiti, ho avuto modo di congratularmi con lui per il risultato e ovviamente anche di dire che da parte mia si deve aspettare una opposizione comunque sana, costruttiva e assolutamente sinergica. Non credo che non abbia funzionato nulla se non il fatto che noi non siamo riusciti a essere di stimolo nei confronti delle persone che erano disilluse dalla politica. Abbiamo lottato per dieci giorni con tutte le forze che avevamo però purtroppo non è servito a nulla perché anzi sono ancora di più aumentate le persone che non si sono recate alle urne. Ho detto che i prossimi cinque anni saranno cinque anni di straordinaria importanza per la città per cui ci sarà da parte nostra un'opposizione assolutamente costruttiva con un'unica finalità di rendere questi cinque anni davvero una grande opportunità per la nostra città.